8. Il racconto di Millicent Fawcett e di Emeline e Christabel Pankhurst Millicent fu il nome che ricevetti nella incarnazione di cui sto per parlarvi. Fui una di quelle donne che maggiormente combatterono per i diritti della sorellanza, ma prima di raccontarvi di me voglio che ascoltiate una storia. Vi fu una antichissima cultura in Giappone, il suo nome è Yomon, era matrifocale e matrilocale. Per diecimila anni, dal paleolitico al neolitico, la gente Yomon onorò la grande madre, in seguito chiamata Amaterasu Omikami, la dea solare ancora venerata come madre del Giappone. Certe loro statuette, che chiamavano Dugu, rappresentavano la donna dea con larghi fianchi, prosperose mammelle e volto di uccello, proprio come quelle dell'antica Europa, riportate alla luce della sorella Maria, Gimbutas. Gli Yomon approdarono sulle coste del Pacifico sudamericano, a cominciare da Colombia, Venezuela e Brasile, e in seguito scendendo lungo il grande fiume verso Bolivia e Peru. E diedero vita all'antica cultura precolombina chiamata Aruaci. Anche gli Aruaci credevano nella grande dea, primordiale madre delle sorelle Mamona e Yamana. Mamona era la dea terra-pietra e viveva nelle caverne. Yamana era la dea luna-acqua e presiedeva i cicli naturali, il canto e il linguaggio. Come tutte le culture matrifocali del globo, anche quella Aruaca scavava sepolture collettive e onorava i crani per assicurare la rinascita di antenate e antenati nel clan. E come in Asia e in Europa, anche in America, questa ricca e pacifica cultura venne minacciata dalle orde patriarcali guerriere e conquistatrici provenienti questa volta dai Caraibi, che i crani preferivano distruggerli per impedire la rinascita di quelle anime pacifiche in seno alla cultura femminina. 60 anni dopo quella che viene ipocritamente tramandata come scoperta dell'America, il conquistador spagnolo Reiana, navigando sul grande fiume, giunse a una città abitata solo da donne che si erano rifugiate lì per vivere senza uomini. Egli scoprì una civiltà femminile governata da una regina, Conorí, una civiltà ricca e avanzata, che fabbricava gioielli in oro e argento, abiti preziosi, tessuti e ceramiche raffinate e che possedeva ampia conoscenza delle leggi di edilizia e architettura, poiché costruiva città di pietra con mura, strade, porte e templi. Per fuggire dai guerrieri bianchi, queste donne erano scappate lungo i grandi fiumi, nascondendosi nel folto delle foreste amazzoniche. Fuori Jana, che ispirato alle amazzoni dell'antica Grecia, che queste donne forti e indipendenti gli ricordavano, battezzò il grande fiume, Rio delle Amazzoni. Quando io mi incarnai, le discendenti di queste donne ancora vivevano nascoste nella profonda vegetazione amazzonica, esse chiamavano se stesse Vorisiana, o paese delle donne che discendono dalle madri. Donne che onoravano l'ignaggio femminile, costruttrici, artiste, cacciatrici, guaritrici, capaci di sparire per non perdere il privilegio di essere libere e sovrane. Furono quelle venerabili antenate borisiana, a insufflarci la lotta per l'emancipazione e l'autodeterminazione. Da loro attingemmo forza e resistenza per la nostra battaglia decennale, sopportando per la sorellanza umiliazioni e sofferenze. A loro chiedevamo sostegno quando venivamo irrise e ridicolizzate, invignete che ci ritrevano brutte e senza denti, con cappelli da uomini ed espressione idiota, accusate di essere lesbiche, frigide o straccione o ridicole bambolette, o ancora militanti per i diritti delle donne solo finché arriva l'uomo giusto che ci piega e riconduce al nostro posto di brave mogliettine. Di me posso dire che avevo 11 anni più di Emmeline. Nacqui di buona famiglia, fui mandata a scuola a Londra a 12 anni insieme a mia sorella Elizabeth, che fu la prima medica chirurga inglese e divenne anche lei suffragista. Mi appassionai alla rivendicazione dei diritti femminili e avevo appena 19 anni quando divenni segretaria della società londinese per il suffragio femminile. Quando rimasi vedova dedicai tutta la mia vita all'attivismo e alla scrittura di libri di economia e politica sociale. Il mio trattato di economia politica per principianti fu ristampato una decina di volte. Mi venne conferita una laurea ad honorem in legge e a 50 anni fondai e guidai per 22 anni l'Unione Nazionale delle Società per il suffragio femminile. Ebbi un approccio moderato, ma ciò non mi impedì di combattere e vincere numerose battaglie volte a troncare gli abusi sui minori, l'incesto e la crudeltà verso l'infanzia all'interno della famiglia, la tratta delle bianche, i matrimoni precoci, la prostituzione infantile. Inoltre volevo porre fine alla pratica di escludere le donne dalle aule dei tribunali quando erano in esame reati sessuali che le riguardavano e poiché consideravo fondamentale l'istruzione femminile, partecipai alla fondazione a Cambridge del primo college per le donne, il Newham. La nostra associazione continuò la campagna per il voto alle donne anche durante la grande guerra, rafforzata dal contributo che le sorelle stavano dando durante i dolorosi anni del conflitto bellico. Lasciai il corpo molto anziana per quell'epoca, avevo 82 anni e da 63 militavo per le donne. Millicent sporse un braccio all'indietro come per chiamare qualcuna. Si alzò un'altra donna che affiancandosi a lei le afferrò la mano e la tenne stretta. Le due donne stettero per un po' in piedi tenendosi per mano. Poi Millicent si sedette di nuovo nel cerchio e l'altra alta e regale. Abbassò il velo color lavanda scoprendo una folta chioma castana con fili grigi ben pettinata e un viso fiero bellissimo. Ci guardò a lungo una dopo l'altra lasciando correre lo sguardo lungo tutto il cerchio con un carisma che cinchio dava a terra. Poi parlò. Avevo sette anni quando una notte mio padre avvicinatosi a me per augurarmi la buonanotte pensando che io fossi già addormentata sussurrò piccola Emeline se solo tu fossi un maschio. Ma io ero sveglia e sentii la frase che ogni padre quando era orgoglioso della propria figlia finiva per dirle in una società in cui essere femmina era considerato una disgrazia e il più grande riconoscimento concessole quando proprio meritato era il compiangerla di non essere nata maschio. Le donne non avevano accesso alle attività professionali le quali erano riservate agli uomini. Potevano solo fare le mogli e madri o le suore oppure le istitutrici che erano un misto di madre e suore. Le parole malaccortamente pronunciate da mio padre come un marchio a fuoco posero in me l'obiettivo di dedicare la mia vita a difendere i diritti delle donne ovvero di adempiere la missione per cui mi ero incarnata. Sulle ultime parole di Emeline tre figure si erano alzate e avvicinate a lei. Le si strinsero intorno e lei aprì le braccia e le tenne strette a sé baciandole sulla fronte con dolcezza. Ecco le mie amate figlie, disse Emeline, Cristabel, Silvia e Adela, tutte votate alla causa. Cristabel accanto a me, fino alla fine, solidale e coerente, in piazza come in carcere, in comizio come in tribunale. Silvia e Adela, con idee differenti nella forma ma non nella sostanza, poiché tutte infine volevamo l'emancipazione delle donne, ed io dovetti allontanarle da me e dal movimento per non perdere la traccia da seguire, così faticosamente segnata, per non farmi distrarre dall'amore materno e dalla preoccupazione. Avevo bisogno di rimanere concentrata giorno e notte sull'obiettivo e sulla strategia per non perdere la forza e la fede che infine ce l'avremmo fatta e così per consegnare il voto alle donne. Ho sacrificato la compagnia delle mie figlie e la loro presenza nella mia vita. Vi chiedo perdono, spero possiate concedermelo. Le quattro donne divennero un unico corpo stretto nell'abbraccio e calde silenziose lacrime scuotevano le loro spalle e scivolavano lungo le loro guance bagnando i veli. A quel punto ci alzamo tutte e ci unimmo all'abbraccio creando una spirale di sorellanza per ricordare, perdonarci e perdonare madri, nonne, zie, sorelle, figlie e nipoti. In quell'abbraccio ogni incomprensione fu cancellata e sanata ogni ferita nella matrilinea e quando, dopo un momento di lungo silenzio e commozione, tornamo a sedere in cerchio. I nostri cuori erano più leggeri e le spalle più rette. Emeline Pankhurst riprese col suo racconto che tutti avevamo desiderio di ascoltare. Per l'emancipazione della gente nera occorsero vent'anni, per quella delle donne cinque secoli. La prima a parlare della nostra libertà fu la sorella Christine de Pisan con la sua città delle dame nel quindicesimo secolo, poi vennero Moderata Fonte nel sedicesimo, Arcangela Tarabotti nel diciassettesimo, Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft nel diciottesimo. E nel tempo in cui visio, la cara Millicent qua vicino a me, che seppure con metodo diverso lottò ogni giorno finché ebbe fiato. Il mio ruolo non nacque dal nulla, fu il risultato di una preparazione e di una empatia femminina durata cinque secoli. Ma prima di proseguire voglio chiedere a Rosa Luxemburg di raccontarvi le cause storiche ed economiche che spinsero il nostro movimento per il voto. Un'altra donna fece per alzarsi con fatica poiché sembrava non avere stabilità sulle gambe e Demelin si precipitò ad aiutarla. Le fu offerto uno sgabello da campo e con visibile sollievo, ella si sedette, raccolse qualche ramoscello sparpagliato intorno alla buca del fuoco dove poteva arrivare con le braccia senza alzarsi e lo buttò sulle braccia ancora vive. Non sono mai più riuscita a scaldarmi, confessò giustificandosi, dopo aver patito tanto freddo in carcere. Credo, sorella Emelin, che tu conosca il freddo della cella, un freddo che gela il cuore, artiglia la mente e rende difficile persino articolare le parole. Qua, nel deserto, insieme a voi, sorelle, finalmente le mie ossa provano il sollievo di sentirsi al sicuro e al caldo. Bene, sappiate che verso la metà del 1700, tempo ordinario terrestre, ci fu quella che viene ricordata dalla storia come la prima rivoluzione industriale. L'utilizzo del carbone e del vapore diedero impulso alle fabbriche e alla produzione di massa. Questo tolse lavoro agli artigiani, i quali divennero operai a basso costo in quelle stesse fabbriche che li avevano derubati del lavoro e della dignità. La politica coloniale per l'accaparramento della terra, la lottizzazione e privatizzazione forzata furono l'unica legge che mise d'accordo capitalismo e socialismo in ogni stato europeo. I movimenti politici che ufficialmente si vantavano di difendere i diritti del loro popolo promulgavano in realtà spudorate leggi che in altri continenti autorizzavano l'esproprio e il furto a danni dei popoli indigeni, obbligandoli a indebitarsi per acquistare la terra che fino a quel momento era stata loro per diritto di nascita. La visione maschilista patriarcale sosteneva che non si può sfruttare la terra senza possederla perché nessuno che non ne sia proprietario si prenderebbe il fastidio di lavorarla, ma questo contrastava con la più che millenaria tradizione delle comunità matrifocali le quali coltivavano la terra in comune senza bisogno di possederla, condividendone i frutti. Questo accadeva ancora all'epoca della mia incarnazione nei clan cabili algerini guidati dalle donne. Lì tutto era proprietà comune della tribù. Terra, attrezzi, abiti e gioielli da cerimonia prodotti della terra e delle bestie seguendo una ininterrotta tradizione matrifocale che fin dal paleolitico assicurava il benessere a ogni componente della comunità. I capitalisti al contrario non coltivavano la terra, bensì lucravano affittandola dopo averla rubata loro a quei popoli nativi che fino ad allora l'avevano lavorata liberamente. Un secolo dopo ci fu quella che viene definita la seconda rivoluzione industriale. Adesso l'elettricità e il petrolio avevano condotto a una crisi di sovrapproduzione industriale che non si era mai verificata quando ogni bene era prodotto artigianalmente. Questo acuì ancora di più il baratro tra le classi sociali e inasprì la miseria di quelle più povere, soprattutto delle donne. In una economia femminina ciò non sarebbe mai potuto succedere. Ecco perché divenne cruciale la battaglia per il voto alle donne, ma vi parlerò ancora di questo. E Rosa, senza alzarsi dallo sgabello, fece cenno a Emmeline di continuare. Nacqui a Manchester, riprese Emmeline Pankhurst, città che da adulta mi mostrò con chiarezza il degrado sociale ed economico legato alla nascita delle fabbriche. Sin da adolescente accompagnavo mia madre Sofia ai raduni delle suffragiste femministe e vivevo con i miei genitori la battaglia per i diritti delle donne e della gente nera. A 15 anni viaggiai fino a Parigi per studiare e lì divenni la depositaria dell'eredità spirituale di Olympe de Gouges e di Mary Wollstonecraft, le due pioniere della nostra causa con i loro scritti sui diritti delle donne. A Parigi io fui permeata dall'indole battagliera francese, diversa dalla moderazione inglese che invece caratterizzava Millicent e battagliera rimasi per il resto dei miei giorni. Giovane sposai un avvocato che per tutta la vita sostenne la causa dei diritti femminili. Io avrei voluto essere la sua libera compagna, senza matrimonio, ma lui che aveva riconosciuto in me il temperamento dell'animale politico insistette per contrarre un legale matrimonio poiché una donna non sposata non avrebbe avuto credibilità per operare ciò cui io ero destinata. Fin da subito fui capace di emozionare e attirare persone alla nostra causa solo con la forza delle mie parole, senza bisogno di leggerle. L'eloquio ispiratomi dalla grande madre era fatto di parole di potere che non lasciavano indifferenti coloro che avevano dei sentimenti. Ai me gli uomini di governo restavano invece insensibili, ma quelli allora come oggi non hanno sentimenti e forse nemmeno hanno un'anima. Non fui mai moderata e da principio mi buttai a testa bassa contro ogni forma di ingiustizia sociale, sebbene poi mi sia focalizzata solo sulla questione del voto, ritenendo che fosse alla base di tutto il resto. Come la nostra sorella Christine, cinque secoli prima, anche io persi il marito e rimasi sola a quarant'anni con debiti e figlie. Fui dunque costretta a rinunciare al lavoro volontario e dovetti cercare un impiego remunerato che mi permettesse di mantenere me stessa e le mie ragazze. Ci trasferimo in una casa più piccola e io lavorai per la Poor Law, la legge per l'assistenza dei poveri promulgata secoli prima da Sua Maestà Elisabetta I. Con questa legge, ai monaci che la riforma anglicana aveva eliminato, si sostituivano le parrocchie nella gestione della popolazione indigente. Ma la visione capitalista, materialista e senza cuore bollò l'assistenza alle persone disagiate come un modo per incentivare la loro pigrizia e disonestà. Io vedevo l'ingiusto trattamento riservato alle donne anziane, alle vedove e alle bambine delle classi povere ribollivo di rabbia. Fu allora che maturai la convinzione che per migliorare la loro condizione fosse imprescindibile per le donne ottenere il diritto di voto. Presi una decisione che perseguì per il resto del mio transito su questa terra senza deviare un solo giorno dal tracciato. Abbandonai tutto ciò che non fosse la lotta per il suffragio alle donne e a 45 anni fondai la Women's Social and Political Union. Avevo ben chiaro che per cambiare le cose era fondamentale che le donne diventassero legislatrici e che per ottenere questo bisognava prima poter votare. Per poterci riconoscere fuori di casa e mostrare all'opinione pubblica quanto eravamo cominciamo a indossare le fasce a tracolla con la scritta Votes for Women, le sciarpe con i nostri colori, il viola della dignità, il bianco della purezza e il verde della fertilità e i distintivi ideati da mia figlia Silvia che costavano solo un penny e potevano essere dunque acquistati anche dalle donne più povere. Il nostro stesso abbigliamento divenne l'uniforme che ogni classe sociale poteva permettersi. Il denaro veniva usato per finanziare la causa. Creamo anche un gioco da tavolo tipo gioco dell'oca. Si chiamava Pankersquith ed era basato sulla lotta tra noi Pankerst, suffragiste, e Herbert Asquith, allora primo ministro e più acerrimo dei nostri detrattori. Valeva la pena trasformare in gioco tutte le nostre difficoltà perché la vendita delle confezioni fruttò un bel gruzzolo nelle casse del nostro movimento e poiché nelle caselle poste a spirale erano rappresentate tutte le nostre azioni politiche e coloro che le bloccavano, parlamentari, poliziotti, carcere, ciò contribuì anche a far conoscere la nostra causa. Le pedine, ovvero figurine che ci rappresentavano, dovevano arrivare alla casella finale, il Parlamento. Ma purtroppo nessun'azione pacifica e costituzionale sortì un qualsivoglia effetto positivo per noi. Né le petizioni, né le marce o le conferenze, né gli articoli sulle riviste che venivano vendute agli angoli delle strade. Dal diritto al voto le donne continuavano essere escluse insieme ai criminali e ai malati di mente. Non solo le nostre richieste venivano ignorate, ma noi, le militanti che stavano sacrificando tutto per la più giusta causa che mai fu perseguita sulla faccia della terra, noi venivamo ridicolizzate e derise anche dalle stesse donne. Cristabel, la figlia maggiore di Emmeline, che fino a quel momento era rimasta zitta, prese la parola con ardore. Fu a quel punto, mamma, che cominciamo con le azioni di disturbo che dovevano obbligare i politici a prendere in considerazione le nostre richieste. Durante la riunione del Partito Liberale, assolutamente contrario a ogni novità, io, Cristabel, richiesi che venisse discusso ufficialmente il diritto di voto alle donne. Fumo entrambe imprigionate, la mamma ed io, ma la notizia fece il giro del mondo. Ci accorgemmo che andare in prigione attirava l'attenzione dell'opinione pubblica sulla nostra causa e ci procurava simpatie. Così cominciamo a escogitare sistemi per farci arrestare. Oh mamma cara, quanta angoscia pativo nel cuore quando ti portavano via, tu non più giovane, ma così fiera, poiché sapevo, per averlo provato sulla mia pelle, dove andavi e come saresti stata trattata per le settimane avvenire. Quando vendemmo la casa di Manchester e la mamma cominciò a viaggiare per portare la sua parola dall'America alla Russia, io presi la direzione del movimento a Londra. Vivevamo di pochissimo, per lo più ospiti di amiche e sostenitrici, poiché noi non avevamo reddito. Per noi non esisteva nient'altro che il voto alle donne e come ottenerlo. Ma neanche questo servì. Rimanemmo inascoltate, nonostante avessimo organizzato la più grande marcia che la storia ricordi. Settecentomila donne marciarono in Hyde Park a favore del suffragio femminile. Fui di nuovo arrestata e poiché ero laureata in legge al processo pur essendo imputata difesi me stessa e le mie compagne, sebbene come donna non mi fosse consentito esercitare l'avvocatura di professione. Fu allora che cominciamo a rompere le cose. Avevamo piccoli martelli leggeri che stavano in borsa, con quelli spaccavamo le vetrine. Cristabel si interruppe repentinamente e guardò la madre, la quale raccolse il filo del racconto. Per rimanere rigidamente fedele, fece Emmeline, all'impostazione che avevo dato a quella che era una vera e propria milizia, allontanai dal movimento le mie due figlie minori, Silvia e Adela, che chiedevano maggior moderazione e ampliamento degli obiettivi oltre al voto. Nulla mi spaventava più, non esisteva sacrificio che non avrei fatto per la causa. Per assicurarmi di essere arrestata e portare l'attenzione alla causa, a 51 anni schiaffeggiai un poliziotto. Durante la mia militanza fui arrestata sette volte. Fumo più di mille ad essere detenute per la campagna suffragista. Fu allora che cominciamo lo sciopero della fame in carcere. Volevamo migliorare le condizioni di detenzione, poiché eravamo prigioniere politiche, non criminali comuni. Chiedevamo di non essere costretti a spogliarci davanti alle secondine o di poter comunicare tra noi, anziché essere tenute in isolamento fino a tre mesi. Ricordo l'angoscia quando in prigione ti ammalasti, Cristabel, e nessuno mi dava tue notizie, poiché eravamo entrambe in isolamento. In condizioni disumane, nutrite con cibo scadente, chiuse nelle cellule gelide d'inverno e soffocanti d'estate con una tavola di legno marcio per letto, una coperta lisa e le divise carcerarie sudici e insufficienti a coprirci, ci ammalavamo. Allora ci mandavano per un po' a casa finché guarivamo e poi tornavano a imprigionarci. A dare il via allo sciopero della fame fu Emily Davison che quattro anni dopo, per agganciare al cavallo del re la nostra fascia durante il derby, fu travolta e morì per la causa, divenendo la nostra prima martire. Dicono che si buttò sotto le zampe del cavallo, ma non è vero, lei voleva solo agganciare al cavallo del re la nostra fascia, con la nostra scritta e i nostri colori. Fu un incidente. Ma non ci permisero neanche di digiunare. Fu quello il periodo più buio e straziante della nostra militanza. La tortura dell'alimentazione forzata, ovvero la pratica di obbligarci a ingoiare latte, uova e tutti i liquidi che si potevano versare in tubi di gomma che venivano inseriti a forza nel nostro naso e in gola. Due volte al giorno venivamo sottoposti a questo scempio che oltre a essere dolorosissimo provocava danni perenni agli organi digestivi. Eppure nessuna di noi cedeva, nessuna cercava di evitarlo e questo gettò discredito sul governo. La società fu sconvolta dall'orrore. Allora iniziamo le azioni violente. In tutto il paese cominciamo a danneggiare e bruciare proprietà pubbliche. Facevamo saltare in a cassetta della posta, stazioni e altro. I danni ammontavano a milioni di sterline. Non ci avevano lasciato scelta. Eravamo stremate dal carcere, logorate dalla vita che conducevamo e dalla consapevolezza che dopo decenni di lotta ancora non venivamo ascoltate e ormai non avevamo più nulla da perdere. E giunse quell'orribile giorno, quando il primo ministro ci imbrogliò per l'ennesima volta, tradendo le promesse che ci aveva fatto, sciolse le camere senza dare spazio alla mozione per il voto alle donne. La nostra reazione fuori dal Parlamento fu di terribile collera. Ci furono scontri con la polizia e 300 sorelle furono brutalmente picchiate per ore. Alcune vennero percose sulle mammelle con manganelli e bastoni. Ci furono due morte. Il governo fece falsificare il report della polizia. Passamo ad azioni sempre più violente, pur senza fare mai vittime. Cominciamo a bruciare chiese e ville dei parlamentari, mettevamo bombe nelle stazioni ferroviari e lungo i binari come una vera organizzazione terroristica. Eravamo disposti a tutto, perché eravamo esasperate. La nostra vita era un incubo, venivamo spiate, ridicolizzate, cacciate di casa, prese in giro dal Parlamento che prometteva e non manteneva, arrestate, e torturate. Fu allora che proclamai, metteremo il nemico in condizione di scegliere se garantirci la libertà o la morte. Noi, sedute in cerchio, eravamo completamente soggiogate dal racconto di quella straordinaria sorella e profondamente dolenti per tale accanimento. Tutte ci chiedevamo perché si dovette arrivare a questo, perché tanta ostinazione nel negare i diritti delle donne, di cosa gli uomini avevano tanta paura. La legge esisteva solo per difendere la proprietà e dunque le donne, non potendo detenere proprietà, non avevano i presupposti per legiferare. Sentimo che forse gli uomini, considerandoci deboli e stupide, non si fidavano della nostra capacità di prendere decisioni. Temevano che la nostra interferenza avrebbe portato caos nella gestione economica e politica della proprietà, l'unica cosa che conta nella visione patriarcale. Solo quando le sorelle suffragiste cominciarono a danneggiare le proprietà degli uomini, le cose si mossero. Sentimo la necessità di sbarazzarci di quei veti e imposizioni una volta per tutte con un'offerta al fuoco, ora che finalmente avevamo il diritto di detenere proprietà dalla dimensione in cui vivevamo, non le davamo più importanza e desideravamo solo restaurare l'economia femminina neolitica della libera condivisione e del dono, dove qualunque proprietà perdeva significato. Possedereci era stato utile per far valere i nostri diritti, per emanciparci, ma ora, dal nostro stato di coscienza, potevamo serenamente rinunciarvi. Ci alzammo e ci avvicinammo al fuoco. Non avevamo null'altro da offrirgli che noi stesse. Gertrude tolse una piccola forbice dal suo sacco, si tagliò una ciocca di capelli e la gettò sulle braci ancora vive, poi consegnò la forbicina a Karen, che a sua volta si tagliò una ciocca di capelli e la gettò lei pure sulle braci. La piccola forbice passò di mano in cerchio a Catherine ed Elisabeth e poi a Nannerle, Elena, Mechild, Margherita e a tutte le altre. Ciascuna di noi offrì in dono al sacro fuoco un po' di quei capelli, simbolo di connessione con l'universo. L'odore dei capelli bruciati si sparse nell'aria intorno a noi e così consacrammo l'intento e quando il giro di offerte fu terminato, tornamo a sedere e dal suo sgabello riprese la parola Rosa Luxemburg. Lo stesso anno che morì Emeline, quello sciagurato incidente del derby, proseguì, io pubblicai la mia invettiva contro imperialismo e colonialismo, l'accumulazione del capitale, la mia condanna a morte. Un anno dopo, allo scoppio della guerra, sorella Emeline, tua figlia Silvia e Millicent si dichiararono pacifiste e antimilitariste. Silvia poi pensava, come me, che la guerra fosse la più diabolica tra le strategie di oppressione dei popoli da parte dell'egregora capitalismo, ma tu volesti che la tua Women, Social and Political Union invece mettesse il suo lavoro a disposizione della nazione in guerra e insieme alle tue compagne e a Cristabel incitavi i giovani ad arruolarsi per difenderla. In cambio, ottenesti la liberazione di tutte le suffragiste ancora in carcere. Come potevamo noi due proseguire il nostro cammino parallelo in quella terribile dualità in cui ogni scelta, quale che fosse, si rivelava ingiusta e dolorosa. Io sostenevo che se ogni uomo si fosse rifiutato di imbracciare il fucile, la guerra si sarebbe evitata. Tu, al contrario, sostenevi che i nemici non avrebbero mai abbandonato la battaglia e noi ci saremmo trovate alla loro mercè senza i nostri a combattere per proteggerci. Entrambe avevamo ragione o forse torto. Nel frattempo in Inghilterra erano cambiati i primi ministri e il re, ma l'opposizione a suffragio femminile proseguiva indefesso. Tu venisti nuovamente arrestata davanti a Buckingham Palace mentre tentavi di consegnare una petizione al re quinto. Avevi 56 anni. Eri una donna anziana per quei tempi, ma non cedevi di un millimetro e guidavi il tuo esercito di donne stando sempre in testa. Eh sì, siamo donne che la galera l'hanno conosciuta per davvero fino in fondo. La prima guerra mondiale stravolse completamente il ruolo femminile nella società poiché essendo gli uomini al fronte le donne cominciarono a sostituirli nel lavoro. Fu questo che obbligò infine il Parlamento inglese a riconoscere il nostro valore e ad ammettere che forse non eravamo tanto deboli e stupide quanto si riteneva. E infatti alla fine della guerra fu concesso il voto alle donne maggiori di trent'anni. Undici anni dopo fu aperto il suffragio universale. Erano passati più di quattro secoli da che Cristina aveva scritto La città delle dame e 26 anni da che avevi fondato la Women Social and Political Union. Ma tu, Emmeline, provata dai digiuni, dal carcere e dalla stanchezza, non vedesti questo glorioso giorno. Avevi lasciato il corpo l'anno precedente, pur avendo combattuto coraggiosamente fino all'ultimo. Ti eri candidata al Parlamento e avevi trasformato la tua unione nel partito delle donne che sosteneva la candidatura di Cristabel alla Camera dei Comuni. Avevi creato una scuola Montessori per figlie e figli di madri nubili o padri in guerra e tu stessa avevi adottato quattro creature. Avevi dedicato all'umanità ogni istante della tua vita e per questo, sorella cara, io onoro te e la tua matrilinea che ancora segue le tue impronte, poiché la nipote di tua figlia Silvia milita lei pure oggi per i diritti delle donne nel tempo terrestre attuale, ben lontane dall'essere considerate pari agli uomini. Ma anche io ho qualcosa da raccontare di me e sarei grata se qualcuna mi porgesse una tazza di caffè così da non dovermi alzare dal mio sedile. Il ricordo della gamba che ebbi più corta fin dall'infanzia continua a molestarmi anche in questa dimensione. Rosa Luxemburg sorrise ironica e attese che arrivasse il caffè. Gertrud, che faceva veci di padrona di casa nel deserto, si affrettò a servirla e insieme alla tazza le diede una rude ma affettuosa carezza sul viso. Rosa gradì il nero caffè bollente e a giudicare da come schiocco la lingua doveva esserne ghiotta, poi si apprestò a raccontare. Grazie a tutti.